missione compiuta per la librino games che appunto raggiunge la qualificazione alla unifrens league e non solo la qualificazione ma le 5 vittorie su 5 che giovanni lentini appunto aveva cercato di raggiungere allora giovanni è stata una bella partita oggi appunto obiettivo raggiunto cosa ne pensi tu no siamo contenti del risultato e siamo riusciti a fare cinque vittorie su cinque partite e quindi è andata bene della della partita cosa cosa ci dici eravate rilassati mentalmente però si è vista sempre la storia da librino se infatti diciamo che eravamo troppo rilassati abbiamo sbagliato tanto sottoporta come sempre come ogni domenica però dai risultato eravamo sempre avanti noi giocavamo con tranquillità stavolta non vi siete fermati a 5 con le marcature avete raggiunto appunto quota 7 e un merito particolare va anche alla prestazione di napoli cosa ne pensi tu no peppe oggi è stato il migliore in campo su tutti i sensi correva ha fatto quattro gol uno più bello dell'altro e complimenti a lui ma oggi tutta la squadra ha giocato veramente bene d'altronde eravamo sette precisi con il caldo si fa sentire però tutto sommato è andata bene qualunque squadra beccherà diciamo la librino games negli ottavi la librino quale mentalità adotterà quella di sempre giochiamo prima per divertirci però vogliamo passare il turno anche noi perché siamo lì e ci proviamo sempre quindi non mi interessa della dell'avversario no no sicuramente adesso da ora in avanti le squadre sono tutte forti e attrezzate per vincere il torneo noi siamo la seconda classificata della serie a però diciamo che non abbiamo paura di nessuno ce la giochiamo con chiunque sarà al completo la librino cioè tornerà per esempio verrillo no tornerà sicuramente salvo todaro poi per verrillo non lo so questo lo dovete chiedere al presidente ok allora appunto spostiamoci con giocinto del ligato presidente della librino giocinto rilasciamoci appunto questa considerazione tornerà salvo todaro verrillo non tornerà no verrillo no come non tornerà prossimo anno poi vediamo come ora la fine della stagione è finita la sua stagione già comunque la rosa è abbastanza forte per competere con le grandi sì penso di sì abbiamo la nostra figura l'abbiamo fatta nel giro ora vediamo a chi prendiamo giocinto un punto della situazione su questa serie a che si è conclusa oggi la librino ha fatto un girone di andata non proprio eccezionale però poi è tornata ad essere la librino che l'anno scorso ci ha diriziato sì ogni anno facciamo le prime due o tre partite abbiamo sempre persone che non vengono perché giocano con delle squadre che non possono lasciare però quando siamo tutti quanti ci facciamo valere in campo chi è che può fare la differenza secondo te gli ottavi? ma tutta la squadra siamo tutti i sette elementi buoni l'innesto di grasso però effettivamente è stata un'arma vincente e qualitativa per voi? sì è un ottimo giocatore ma ci sono altri c'è di prima c'è Napoli facciamo i complimenti anche a Zappalà che oggi ha parlato veramente di tutto sì e poi se me lo permettete volevo fare gli auguri a portiere Scarlata che è diventato papà a nome di tutta la squadra e del presidente allora anche noi ci uniamo appunto agli auguri ringraziamo Indelicato e restituiamo la linea nello studio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti